Io vorrei fare qualche considerazione insieme a voi su quelli che ritengo essere stati gli errori di Marx, le mancanze della sua costruzione teorica e politica e considerare in qualche modo come queste mancanze originarie abbiano condizionato in un modo pesante la storia del comunismo del XIX secolo e del XX secolo e quindi insomma questo è un mio discorso che non celebra tanto un bicentenario quanto diciamo apre una cerimonia degli addii, quindi una cerimonia insomma di separazione da tutto ciò che di Marx non ci serve perché probabilmente non ci è mai servito. Però ovviamente poi in qualche modo considerando anche le cose fondamentali invece di Marx, soprattutto nella sua analisi del capitale, come già abbiamo sentito dalle relazioni precedenti. Dunque in questi mesi gira un film per le sale il cui titolo è Il giovane Marx. è un film diretto da un regista tedesco di origine caraibica spagnola e tratta in un certo modo appunto della vita del giovane Marx. È un film fondamentalmente brutto a mio avviso, è una soppopera, però io credo vada visto perché al di là di tutte le inesattezze di carattere teorico, filologico che descrive e che accumula, quindi è un film pieno di falsità, però diciamo ha il pregio di mettere in evidenza a mio avviso abbastanza bene il carattere di Marx. Marx in questo film appare come io credo sia stato, con un carattere estremamente volitivo, molto affermativo, profondamente pieno di consapevolezza di sé, del suo valore e io credo appunto in un modo anche eccessivo questo saper di sé che nel film insomma si manifesta e si realizza in un certo modo. Certo che Marx appunto, il giovane Marx doveva essere un personaggio notevolmente autorevole, il Gagliardo, se pensate che lui che viene da una famiglia ebraica che deve rinunciare all'ebraismo e deve convertirsi al luteranesimo affinché il padre di Marx possa esercitare la professione di avvocato. E Marx viene convertito all'età di cinque anni insieme a tutta la famiglia nella chiesa luterana di Trier, di Treveri. Pensate che l'ascendenza ebraica di Marx è enorme sia dal padre che dalla madre, sono famiglie rabbiniche, quindi dell'ebraismo più colto, che risalgono fino al Cinquecento, la famiglia del padre fino a dei grossi studiosi rabbinici del Cinquecento padovano, la famiglia della madre olandese, una famiglia appunto di rabbini che risale fino al Seicento. Questa radice profondissima di ebraismo viene scissa, viene tagliata in un modo radicale e Marx userà sempre delle espressioni pesantissime nei confronti dell'ebraismo e della figura dell'ebreo, rappresentato come appunto il sinonimo dello spirito accumulativo e rapace del denaro. Quindi, come dire, è singolare questo tratto emozionale caratteriale di Marx della rimozione, diciamo, di questa sua radice identitaria così profonda. E quindi mi viene fatto di pensare che Marx deve essere stato molto capace nell'operare rimozioni, rimozioni anche emozionali. Forse anche a proposito di quel problematico figlio che genera, si presume, con la cameriera, con Helene Demuth, Friedrich Demuth, il figlio verosimilmente illegittimo di Marx, che viene mantenuto poi da Marx e da Engels fino al 29 quando muore, è un operaio che lavora nei torni di Manchester, un figlio che non è stato mai riconosciuto, che forse Marx voleva che venisse riconosciuto da Engels. Engels si rifiuta a un'operazione del genere. Però, appunto, l'identità di questo figlio rimane molto problematica. La madre di Friedrich dichiara che il padre verosimilmente è Marx. Insomma, anche lì probabilmente c'è un episodio di rimozione. Perché dico queste cose anche banali, psicologiche. Perché io credo che buona parte dell'opera di Marx e quindi buona parte del comunismo, cioè della storia che interessa a tutti noi, soprattutto noi più anziani, che siamo stati profondamente attraversati da questa storia, buona parte dell'opera di Marx la si può intendere attraverso una singolare relazione simbolica con una figura paterna, che era la figura di Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel è la grande autorità della cultura e della filosofia tedesca, degli anni 30 e degli anni 40, cioè sono gli anni durante i quali si forma Marx. È il grande, grandissimo filosofo di Berlino, dove Marx va appunto a studiare, anche lì con un atto di decisionismo forte, dopo che, anzi ancora prima, lui ebreo riesce a sposare Jenny von Westphalen, una ragazza nobile della famiglia più nobile di Treviri, della famiglia legata i von Westphalen a tutte le istituzioni prussiane. Ed è singolare appunto che questo ragazzo ebreo di famiglia ebraica legittimata solo con ritardo. Riesca a sposare un ebreo nero, pieno di capelli e di barma nera, perché così era Marx, tanto che veniva chiamato Der Moro, il Moro appunto. Riesca a sposare questa bellissima, la più bella di Treviri, che era appunto Jenny von Westphalen, a testimonianza probabilmente del carattere forte di questo ragazzo e naturalmente anche della genialità evidentemente della sua mente e della capacità appunto fortemente seduttiva che doveva avere, tanto da far cadere rapidamente la bella Jenny, che appunto era naturalmente ricercata da molti altri ammiratori. Dunque il padre sappiamo vuole che diventi avvocato come lui, allora lo manda a Colonia, la università più vicina, a Treviri, ma il giovane Marx è un goliarda animoso appunto e si sfida a duello con un membro di una associazione studentesca nobile, da questo duello esce con una piccola cicatrice sull'occhio che porterà per tutta la vita e non contento di questo compra una pistola, la polizia fa una perquisizione, trova la pistola nella camera di Colonia, c'è un processo ma interviene il Westphalen, il futuro suocero e Marx viene prosciolto. Insomma per farla breve Marx poi va a Berlino, il padre non può più opporsi, va a Berlino a studiare giurisprudenza ma non studierà nulla di giurisprudenza perché studierà solo filosofia. Ora perché dico questo? Perché io credo che buona parte della concezione dell'essere umano del primo Marx e di quella che starà alla base dell'antropologia del socialismo è una concezione materialistica dell'essere umano che si deve opporre alla concezione cosiddetta spiritualistica dell'antropologia di Hegel. Il giovane Marx deve compiere un parricidio nei confronti della figura paterna più autorevole di quel tempo che era appunto Hegel e siccome, come si dice, Hegel aveva fatto soggetto della realtà, l'idea, Marx fa come soggetto l'uomo faber, l'uomo produttore, l'uomo lavoratore che parte dai suoi bisogni materiali, trasforma la natura e in questo lavoro trova la sua identità e la sua dignità. Ora, questa contrapposizione, diciamo, lavoro di Marx allo spirito di Hegel viene facilitata dal fatto che Marx frequenta in quel momento un altro filosofo che si chiama Feuerbach, Ludwig Feuerbach, e io credo da questo filosofo tragga una concezione, come dire, troppo facile della solidarietà umana, una visione troppo facile della comunanza, della collettività. Marx ritiene che l'essere umano che lavora è per definizione solidale e collettivo con gli altri lavoratori. Ritiene cioè che la classe lavoratrice sia per definizione una classe universale che non alberga dentro di sé individualismi, separazioni, conflitti, ma che appunto è capace, in quanto messa a confronto con le durezze del lavoro, di sviluppare una dimensione profondamente unitaria e socialista, profondamente unitaria e comunitaria. Io credo che, detto molto genericamente, questa visione, diciamo, di un facile collettivismo che passa attraverso il lavoro, per cui il lavoro identifica, ripeto, una classe che nel momento in cui lavora è carica di emancipazione, è carica di valori di trasformazione e io credo che questa identità è stata troppo facile e ha condotto a molti danni nella storia del comunismo, questa immediata identificazione della classe lavoratrice con la classe emancipatrice, credo che questo appunto sia esposto molto a questa influenza di questo filosofo, di questo Feuerbach, che scrive testi importanti, soprattutto uno del 39 per la critica della filosofia hegeliana e altre opere, in cui Feuerbach dice che, come dire, l'essere umano trova facilmente nell'altro una sua integrazione, un suo completamento. L'essere umano, dice Feuerbach, è un essere generico, lo devo dire pesantemente in tedesco, è un Gattungswesen e Gattung in tedesco significa generico, universale, collettivo. L'essere umano di sua natura, dice Feuerbach, è un essere comunitario che trova nell'altro l'integrazione, lo svolgimento, l'arricchimento della propria identità, appunto perché la sua è un'identità tendenzialmente universale. Di contro a questa concezione dell'essere umano comunitario, Hegel aveva detto che non è vero che l'altro è l'integrazione del sé, perché per Hegel tra io e altro c'è una lotta, c'è una distanza, c'è una problematica, che Hegel chiama la lotta del riconoscimento. Quindi per Hegel non c'è questa facilità di una compenetrazione tra individuale e collettivo, perché bisogna passare, come abbiamo sentito anche nella relazione precedente, appunto, questa, come dire, discussione tra esistenzialismo e marxismo, no? L'esistenzialismo che cosa dice? A partire da Kierkegaard, che non è vero che c'è il solo valore dell'eguaglianza tra gli esseri umani, perché ci deve essere anche il valore della differenza e del fatto che io sono una soggettività irripetibile nel tempo e nello spazio, non sono uguale a nessun altro. Quindi si tratta di vedere quanto il marxismo sia stato capace di accogliere nella sua storia questa istanza del riconoscimento delle differenze esistenziali e non le abbia, invece, schiacciate ed annullate rispetto all'unico valore della collettività e dell'eguaglianza. Potendo affermare che questo è un errore che si ritrova nelle opere di Marx. non è qualcosa che viene dopo, sta lì, fin dall'inizio. Almeno, ovviamente, questo è il mio modo di leggere le cose. Ora, come dire, un'ipotesi di lettura potrebbe essere questa, insomma, che questo Marx, che deve compiere il parricidio nei confronti di Hegel, trova troppo facilmente il soggetto del lavoro come un soggetto comunitario e solidale e troppo facilmente identifica la prassi come il lavoro della natura con la prassi come trasformazione della società. Compie questo circuito, questo corto circuito, con il concetto di prassi, passando troppo facilmente da un piano all'altro, dal piano economico al piano etico-politico. E, come dire, troppo facilmente a partire da questo elabora la famosa dottrina del materialismo storico, di struttura e sovrastruttura, per cui in ogni momento della storia è l'economico che è il luogo della verità, del senso e tutte le altre produzioni culturali, religiose, politiche sono sovrastruttura, sono deformazioni e falsificazioni di questo luogo di verità che è la struttura. tanto appunto che un mio vecchio professore di filosofia diceva ma se c'è questa legge della struttura e della sovrastruttura ma Marx e Dekel che cosa fanno quando scrivono l'ideologia tedesca? fanno struttura o fanno sovrastruttura? Perché se fanno sovrastruttura cadono in contraddizione avendo detto che ogni realizzazione culturale è una realizzazione ideologica che si allontana dalla verità della struttura materiale. insomma quindi anche il materialismo storico rischia di aprire molti problemi io naturalmente qui sto semplificando insomma e chiedo scusa allo sguardo severo di Chiara Giorgi che mi guarda dunque anche perché sarà lo stesso Marx nella genialità della sua mente infinita perché io sto parlando del Marx che a mio avviso compie errori non sto ancora parlando del Marx geniale che a mio avviso scrive quell'opera fondamentale che è il capitale che è ancora lo strumento indispensabile io credo per capire il mondo nel quale viviamo però bisogna arrivarci appunto a questo Marx soprattutto per quello che proverò a dire dopo questo Marx del capitale deve trovare il giusto modo di avere a che fare con i padri che non si possono uccidere capovolgendoli come ha fatto il primo Marx materia contro spirito e tutto allora riduciamo alla materia con questo appunto parricidio immediato ma i parricidi che rovesciano non li uccidono i padri li continuano a far vivere come ha detto bene anche a Tusser rispetto a questo il mero rovesciamento mantiene l'antagonista intatto è solo quando verosimilmente c'è il grande lutto di Marx la grande sconfitta della rivoluzione del 1848 questa grandissima speranza che ha infiammato per sei mesi tutta l'Europa da Parigi fino a Varsavia e su cui il movimento comunista di Marx aveva moltissimo puntato ovviamente ci vuole questa sconfitta drammatica di una facilità rivoluzionaria ci vuole l'esilio da Bruxelles dopo Parigi a Londra ci vogliono le condizioni economiche difficilissime del primo periodo londinese quando appunto Marx e Jenny vivono in due stanze con tre bambini e poi arriva Elena mandata dalla madre di Jenny per aiutare e sarà appunto la compagna di casa ma in due stanze appunto ci vorrà tutto questo perché forse Marx lavorando per vent'anni silenziosamente al British Museum nella biblioteca del British Museum riesca ad elaborare il lutto e ad avvicinarsi in un modo positivo rispetto al grande padre Hegel provandosi a trarre da Hegel tutti gli insegnamenti che gli potevano tornare utili nella perlustrazione scientifica del presente perché così si uccide un padre e si supera un padre comprendendolo e prendendone ed ereditandone i lati migliori e questo io credo sia accaduto appunto al nostro Marx tanto appunto che in questa operetta preziosissima che sono i Grundrisse cioè i quaderni che compone durante gli anni 50 prima della stesura del capitale Marx è già in grado di rivedere le durezze del materialismo storico e scrive un capitaletto che si intitola non lui l'hanno intitolato poi le forme che precedono la società capitalistica le forme della storia precedenti e in questo capitaletto comincia a dire delle cose incredibili comincia a dire che nella città greca nella polis del VI secolo il principio di organizzazione sociale non era il lavoro ma era l'appartenenza politica alla polis era l'essere riconosciuto membro della polis che poi dava diritto a un certo possesso fondiario e a una certa ripartizione della terra dice che nelle società primitive sono i legami di sangue i legami familiari i legami tribali che definiscono l'apertura ai possessi di proprietà delle cose materiali dice che nel medioevo sono i rapporti fiduciari del feudalesimo a stabilire l'ordine sociale cioè comincia appunto a dire che non è il lavoro come aveva scritto nell'ideologia tedesca il principio di organizzazione sociale ma sono altri più complessi e che solo nella modernità nella quale viviamo il principio economico solo nella modernità il principio economico diventa il vero principio di socializzazione bene insomma scusate veramente la schematicità della cosa ma allora questa ipotesi di lettura un primo Marx un marxismo senza esistenzialismo per tornare al discorso di prima un marxismo che propone forse un'antropologia su cui è caduta l'unione sovietica al di là ovviamente di tutti i nemici esterni che hanno aggredito l'unione sovietica fin dall'inizio e l'hanno in qualche modo strangolata dall'esterno e al di là ovviamente del riconoscimento eterno che noi dovremo all'unione sovietica con i suoi 20 milioni di morti che hanno fermato il nazismo ma verosimilmente come dire forse la carta antropologica dell'unione sovietica era una carta che si fondava fondamentalmente sul valore dell'eguaglianza sull'unico valore dell'eguaglianza era una carta costituzionale monoculturale monoculturale e l'importante ovviamente era garantire come era giusto il soddisfacimento dei bisogni primari a tutta la popolazione che usciva da secoli di penuria ma non importava in quale modo libertario o meno importante era assicurare i bisogni materiali e l'esistenzialismo è un valore borghese deve venire dopo l'esistenzialismo il valore della differenza individuale con tutti i suicidi che hanno attraversato soprattutto la prima formazione dell'Unione Sovietica rispetto forse a questa mancanza appunto di esistenzialismo bene questi sono problemi enormi storici ovviamente di interpretazione che io appunto schematizzo dicendo l'Unione Sovietica è stata costruita su una monocultura e questa monocultura ritorna come responsabilità a Karl Marx quindi faccio dei tagli storici spaventosi però provoco quindi mettiamola ora però appunto come dire uno è molto colpito dal fatto che l'ideologia tedesca soprattutto per i più giovani l'ideologia tedesca è un testo che Marx ed Engels scrivono tra il 45 e il 46 e che non viene mai pubblicato in cui polemizzano contro tutti i loro compagni d'avventura che si chiamavano giovani hegeliani che erano spiriti libertari anti-istituzionali come loro con cui avevano collaborato a Berlino come Bruno Bauer e tanti altri in particolare però dedicano moltissime pagine di questo manoscritto ad un personaggio che si chiama Stirner e questo Stirner guardate cato è quello che si dice il padre dell'anarchismo perché in un testo che si chiama l'unico e le sue proprietà questo Stirner aveva accusato il socialismo di Marx e di Engels di essere un socialismo troppo omologante troppo unificante che sacrificava l'individuo di nuovo l'esistenzialismo di fronte alla ragione dell'eguaglianza e quindi giustamente Marx e Engels gli danno 300 pagine e buttano addosso per cercare vanno parla a questo Stirner a che vuole questo Stirner e bene allora così vado alla conclusione poi parliamo un po' tutti quanti insieme il lutto il grande periodo del lutto sono morti due figli a Marx a Parigi verosimilmente distenti si dice comunque di una casa molto fredda scomoda e poi insomma sempre questo travaglio di mancanza di denaro il poveretto fa un unico tentativo di lavorare partecipa a un concorso per le ferrovie londinesi ma viene bocciata a questo concorso per la calligrafia devo dire io ho lavorato per due anni sui manoscritti di Marx sulla grafia originale effettivamente aveva una grafia terribile anch'essa mediata e trasformata in belle lettere dal lavoro di Jenny von Westphalen dalla moglie perché noi abbiamo il capitale perché Jenny ritrascriveva i testi di Marx ma insomma questo lavoro del lutto e questo incredibile lavoro che Marx svolge al British Museum questo studio enorme dell'economia politica della storia ma soprattutto dell'economia politica i più giovani devono sapere che Marx lavorava secondo la metodologia di un bravissimo studente prussiano ogni libro veniva riassunto in quello che con latino si diceva un exceptum un estratto e l'edizione critica delle opere di Marx sta pubblicando il quarantesimo volume di estratti che sono importantissimi ovviamente perché questi estratti vengono accompagnati da commenti da sottolineature da tagli e altre cose quindi sono molto importanti per capire come Marx lavorasse e si è portato dietro per tutta la vita questi quaderni di estratti che cominciano da quando era studente e io credo che come dire anche nelle opere mature Marx la mente di Marx la vedo fatta in questo modo come un grande complesso di cassetti di diverse epoche di diversi anni della sua vita che lui è capace di riaprire in continuazione utilizzando segmenti di un pensiero antico e spesso non portandoli a coerenza e questo credo che generi moltissimi problemi interpretativi comunque per farla breve allora il lutto un diverso modo di agire il parricidio e la composizione del capitale con la composizione del capitale io credo che Marx si apra ad una teoria profondamente diversa della soggettività storica la soggettività che sta al centro della modernità ora per Marx è non più come dire l'essere umano l'homo faber ma è fondamentalmente il capitale come una ricchezza astratta impersonale una ricchezza monetaria che cresce deve crescere su se stessa credo che si possa leggere il capitale di Marx tra le mille interpretazioni che ci sono come la teoria di un soggetto storico automatico il capitale è fondamentalmente una ricchezza monetaria che essendo ricchezza quantitativa una quantità non può che vivere della sua espansione quantitativa della sua accumulazione compiendo dei passaggi cioè dei protocolli da capitale monetario capitale forza lavoro capitale merce capitale creditizio che rappresentano le diverse fasi di questo automatismo un automatismo che pone nel cuore della nostra vita paradossalmente questo fattore impersonale astratto di realtà di crescita di cui gli esseri umani sono solo personificazioni portatori secondo una divisione di classe che vede i capitalisti essere portatori di denaro la classe dei lavoratori portatori di energia lavoratrice e che quindi come dire Marx in questa visione molto schematica che io sto dando rilegge il tempo moderno il tempo della nostra vita attraverso Hegel cioè come un tempo dominato da un soggetto che è quasi spirituale il capitale perché il capitale di fondo è disinteressato alle cose che produce alle merci che vende l'importanza è l'accumulazione e la sua espansione e in questo modo appunto io credo che Marx si metta a studiare questa realtà come dire paradossale perché ovviamente sto parlando di un paradosso perché vi sto venendo a dire che noi siamo agiti siamo attori di uno scenario e di un processo economico di cui siamo inconsapevoli in buona parte perché appunto questo processo economico è fondato su delle regole oggettive impersonali che nascono dalla natura di questa ricchezza che sta nel cuore della modernità ed è una ricchezza fatta non di cose che servono a soddisfare bisogni ma è una ricchezza che è fatta nella sua astrazione per crescere su se stessa e dilatarsi ad occupare tutti gli spazi e le civiltà del pianeta che quindi Marx appunto abbia visto a un certo punto il capitale come il Geist di Hegel questa figura spirituale che costruisce l'intera realtà in questo modo totalitario e anti-esistenzialista ma che nello stesso tempo vorrei dire il discorso un po' si complica diciamo così se al centro della realtà sociale c'è questo c'è questa dinamica questo meccanismo di astrazione economica Marx prova anche a dire che tutto ciò come dire produce uno svuotamento delle nostre vite che viene compensato con un'attenzione alla superficie che viene compensato solo con una appunto come un qualche cosa che guarda solo all'esteriorità cioè che il capitale visto in questo modo riesce a produrre una mente una mente come la mente contemporanea che è sempre meno capace di profondità che è sempre più volta verso l'esteriore perché è proprio il processo capitalistico che è un enorme processo di svuotamento del mondo che invade con la sua logica accumulativa con la sua logica stratta e di questo mondo lascia solo una 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 pelle di superficie una vita svuotata appunto e a questo punto c'è questo effetto quasi simulacro di superficie e viene generata una mente capace solo del superficiale capace solo della notizia più reboante capace del colore più sorprendente capace della superficialità per cui forse ci potrebbe essere l'ipotesi appunto di un marxismo che riesce a comprendere come come diceva Chiara Giorgi il capitalismo produce ovviamente non solo merci non solo profitti ma anche una forma di soggettività di soggettività una forma di soggettività di cui verosimilmente la testimonianza più crudele oggi è la scuola e i processi di formazione scolastica fino all'università che a mio avviso rispetto al passato sono processi di svuotamento e di creazioni di menti giovanili prive del senso della storia prive di capacità riflessive e pronte al comando informatico e al messaggio informatico ma l'informatica è divenuta oggi la tecnologia del capitale quindi per concludere insomma diciamo queste ipotesi provocatorie appunto di questo Marx che fin quando sta nel grembo di Papa Hegel pensa troppo facilmente il soggetto e questo troppo facile soggetto comunitario ha influenzato troppo a mio avviso la storia del comunismo del novecento e invece appunto un Marx che reso esperto dall'amarezza della sconfitta e del lutto riesce ad avvicinarsi ad Hegel e tirar fuori diciamo questa paradossale teoria del capitale come grande soggetto poi esistono ovviamente i mille capitali che operano nelle mille attività produttive diversificate esistono le intelligenze degli imprenditori intendiamoci esistono i mille capitali ma a Marx interessa in primo luogo identificare il capitale come concetto come lui dice cioè come figura generale e questo concetto a mio avviso lo trova in una soggettività della storia per la prima volta paradossalmente non umana disumana essendo una ricchezza solo quantitativa con le sue leggi quantitative e per quello io credo usa per titolare la sua opera Das Capital al singolare appunto non dice processo capitalistico perché ne vuole dare in primo luogo una definizione concettuale cioè universale grazie tanti